La settimana internazionale della ricerca nell'ambito dell'evento L'Avvenire della Cura segnala la scuola Aldomoro dell'Istituto Mattei Fortunato di Eboli come riferimento di eccellenza per la formazione garantita agli studenti. La scuola della Piana del Sele, unica a rappresentare la provincia, lo scorso 24 maggio presso l'Istituto Alfonso Casanova di Napoli, ha presentato due apprezzate relazioni preparate da Francesco Iorio, Cristian Iorio, Salvatore Pierro della Quinta A e Andrea Bianca Chele e Federica Lomolino della Quinta B. Gli studenti, in particolare i rappresentanti dell'Istituto, sono stati i veri protagonisti della manifestazione. Il nuovo modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa per consentire a ogni studentessa e a ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente e partire dalle competenze chiave di cittadinanza e quanto sottolinea la dirigente scolastica Laura Cestaro.